Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore lo trovate in basso a destra nell'item shop di fortnite ogni tuo futuro acquisto su fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Ricomincio dalle snipes ora che non ci sono più le zone, penso proprio di sì righi, penso proprio di sì Probabilmente domani pomeriggio inizierò ad allenarmi Non mi sado Non mi sado Non mi sado Non mi sado Grazie a tutti. E la madonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo. Voi non ve ne accorgete perché magari non lo sapete ma voi non ve ne accorgete della fatica che io sto facendo. In questo momento a giocare in questo modo cioè voi non lo percepite che a voi vi sembra tutto figo wow skill che bella kill tutte ste cose ma voi non avete la più pallida idea di quanto io invece non stia giocando nel modo in cui gioco io. E non è bello giocare così non è bello giocare in un posto che non è la propria comfort zone. Grazie a tutti. Mamma mia. Quello non l'ha nemmeno visto arrivare il proiettile. Non me ne ha capito che è successo. No. 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 mi stava da noia penso che tutte le persone con stato della mappa le abbia uccise se c'è gente è in questa direzione se c'è un'altra direzione oh madonna quello spara solo a me cazzo è il triangolo no non l'avevo considerato non 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 Grazie a tutti Ci hai provato Dai Ok Easy boys Clean Ciao YouTube Un saluto ragazzi Ciao Ciao Ciao